Li hanno chiamati eroi appena un anno fa, ma adesso sono costretti a lavorare in condizioni davvero inaccettabili. Mentre l'Italia e l'Europa affronta l'inizio della quarta ondata, i medici e gli infermieri dei pronto soccorso d'Italia hanno manifestato lanciando l'appello a salvare la medicina d'urgenza. Il sit-in che si è svolto anche a Derezzo è stato organizzato per sensibilizzare decisori e opinione pubblica affinché si lavori alla ricostruzione di un sistema efficiente. Ieri questo flash mob, il motivo qual è? Lo conosciamo però ce lo racconta lei. I risultati non arrivano a quanto pare? No, i risultati non arrivano. Ieri è stata la giornata della rabbia. Eravamo veramente arrabbiati perché si sa che anche per i prossimi anni non succederà niente. Non si risolve su tutti questi problemi, sui soldi e basta. Però già i soldi sarebbero un rinascimento importante verso dei professionisti che danno l'anima, che fanno turni massacranti, che non fanno le ferie, che non hanno domeni e festività libere. Ecco, io questo lo rivendio, lo rivendio fortemente, lo rivendo verso le istituzioni e vorrei comunque averli ancora più vicini perché se le merito, questi medici e questi infermieri sono in trincea da ormai da anni, sapranno che ancora per i prossimi 2-3 anni saranno in difficoltà. Ecco, questo non va bene.